Vasiliev dentro per Enzegno, con il dentro, salva Simoncini, prima grande parata della partita Chiaruzzi, calcio d'angolo dentro, la palla resta lì, arriva Vitaglioli, si è salvata l'Estonia Vasiliev, con il dentro, ancora Simoncini, para a terra Avanza il capitano dell'Estonia, dentro per Zeniov, tocco fuori di poco del numero 10 Antonov, con il destro, ancora Simoncini, bravissimo a toccare il calcio d'angolo Vasiliev dentro per Zeniov, anche solo, bravissimo, ancora a terra, Simoncini Salta Morosov e ancora Aldo Simoncini, salva San Marino Vischia Brig è finita, 0-0 tra San Marino ed Estonia, primo storico punto per la nazionale sanmarinese